allora buongiorno e come state tutto bene allora stasera sapete che c'è polonia italia vi invito anche ad attivare voglio dire del dell'umile campanace ok attivate il campanace perché poi la commentiamo ma andiamo a fare in previsione di questa esiziale partita la nostra polonia italia col mio pesca e voglio dire qualcosa di estremamente più fomentante ed esiziale della kermess stessa di questa sera quindi voglio dire andiamo a fare un bel polonia italia con le formazioni da me indicate l'italia con lo sponsor puma guardate tutti questi layout li ho fatti io e la polonia con uno sponsor ioma va bene così è giusto così vediamo le formazioni queste sono su pes 5 alla faccia dei dei modernisti hai anche l'opportunità di fare tu le convocazioni in base alla gente che hai creato seleziona per esempio marchisio non c'era l'ho creato io ma lo sono convocato anche in nazionale capito il principino la polonia è quella che vedete voi voi a fianco molto be piana diciamo con un be piano 4 4 2 io invece ho un italia d'assalto con il 343 come giusto così ok è giusto così possiamo scegliere le formazioni abbiamo anche giovinco chi facciamo giocare giovinco o vecchio perdo va bene scusate allora chi è che mettiamo qui in campo ma si mettiamo un esiziale osvaldo al posto di balotelli guardate che tridente totti gila osvaldo totti gila osvaldo vi piace no io metto cassone cassone antonio cassone così abbiamo totti cassano osvaldo il trio di questo trio qua questo tridente qua sapete che ci sono i vari nomi per i tridenti tipo grenoli magica del napoli hdr quello della juve dello scorso anno ecco questo trio qua con totti cassano osvaldo io lo chiamerei il trio ragazzi di via panisperna va bene abbiamo proprio il trio di di proprio ragazzi di via panisperna ok sembra di essere nel progetto manata non avere un trio d'attacco così e basta direi che possiamo andare a riaudo e nazionale vi fa capire il il nostrismo avete capito per il resto derossi derossi in campo ci sta punto a fare una goleada e poi tanto abbiamo spazio anche per le per le sostituzioni ok in questo gioco attenzione perché smolare che è un fuoriclasse cioè non che sia forte in realtà nei valori di pass che gli ha dato il gioco ma è forte perché io io l'ho fatto crescere e l'ho e l'ho allevato al latte del mio seno avete capito anche lui bene iniziamo subito con un piglio aggressivo l'anno scorso avevo fatto una bellissima maglia dell'italia che era con un azzurro più tenue di questo ok con un azzurro un po più tenue di questo e però aveva aveva diciamo i pantaloncini neri che cazzo di fallo è ma che cazzo hai fischiato ma cosa hai fischiato ma che cos'è questa iniziamo subito con le beste a no per fortuna pensavo che l'avesse deviata in corner che iniziavamo già cominciamo già malissimo iniziamo già malissimo allora chi è chiello vai chiello vai chiello che cazzo di passaggio hai fatto di naso hai fatto un cross di naso allora kosowski 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 falciatelo bravissimo marchisio bravissimo marchisio è è nel mio gioco non vai da varriale nel mio gioco il meglio lo dè in campo lo dè in campo lo dè in campo lo dè in campo no totti marchisio totti 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 vai vai principino principino il principino abbiamo scaldato le mani a dudex ve lo ricordate dudex in finale di champions con milan liverpool a me io adesso è il tempo delle confessioni è il tempo delle mele milan di berlusconi mi stava sui maroni preferisco questo milan qui proletario ed esiziale ma che cazzo fai chi è questo ma va la ho già perso la voce il signore non ce la faccio oddio si no 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 cosa fai maledetto è successo veramente è successo è successa veramente questa cosa no scusate scusate non può essere deve esserci un errore scusate ma qui ma vai a cagare buffo ma che cazzo è questa cosa ma non è mai possibile nella vita una cosa del genere adesso devo rifarmi perché altrimenti cioè vuoi come pensate se una cosa del genere la facevi ai mondiali ok totti 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 aveva ragione spalletti spalletti de rossi de rossi sei una merda niente stiamo perdendo stiamo perdendo è anche la faccia cassano vai antonio antonio migliore in campo marchisio e già la dice lunga su quella che è la qualità di questa nazionale va bene pirlo vai maestro maestro almeno tu cassano cassano vediamo qua aquilani 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 passa la palla fai una cosa buona cassano ma vaffanculo smolare ci vorrebbe bepi a leggerci le a leggerci le pronunce qui sapete adesso vi racconto un episodio universitario prima che mi segnano il secondo gol e eravamo a lezione io bepi un mio amico no ed è vera sta storia eravamo a lezione e stavamo aspettando di andare in mensa a mangiare che eravamo affamati no lui mi ha attaccato un discorso mentre stavamo andando a mangiare sai quando hai tipo fame che hai che hai la testa che non capisce niente che penso solo al mangiare e lui mi ha attaccato un discorso sul feudalesimo nella mitte l'europa medievale così ho continuato a dirgli sì sì e sì e così per venti minuti e ma senza capire cosa stava dicendo no e così insomma questo episodio bello della mensa che sono andato avanti venti minuti a far finta di capire quello che bepi che bepi mi diceva quando faremo un video assieme ancora va bene glielo rinfacciate va ben dite gli ti ricordi quella volta che hai fatto il discorso sul feudalesimo in polonia e in mitte l'europa e alessandro faceva finta di capire quello che stavi dicendo vediamo cosa risponde bene ora passiamo a questa tragedia di partita marchisio pirlo attenzione pirlo pirlo scarta l'arbitro chiellini il nasone il nasone il nasone di chiellini si fa prendere palla attenzione bonucci grande leo ti ho sempre amato capitano vero del milan capitano vero del milan casca casson ha fatto la cassanata in mezzo al campo questi qua si difendono questi questi maledetti qua si difendono col 4 4 2 e ripartono in contropiede noi abbiamo una manovra assolutamente sterile e in in adatta a scardinare il gioco difensivo di questi qui ok e non è una questione di cambi secondo me è proprio una questione di entrare in partita e capire il contesto di gioco vediamo qui se riusciamo caspita questa era una bella azione dai dai che ci stiamo svegliando dai che ci stiamo svegliando dai che ci stiamo svegliando certo è che se buffo non faceva quella cappellata lì voglio dire chissà cosa stava pensando i fruttini vada vada in tribuna a bersi un fruttino ecco anche questi falli qua ma che cazzo ma che fallo è ma era sul pallone bastardo ho visto un video di di pre con la maglia del bayern che fuma in terrazza guarda che piglia il secondo che fuma in terrazza con la felpa del bayern che nostrismo allora cassano cass i tacchi i tacchi marchisio dei rossi dei rossi attenzione aquilani aquilani sei più impalpabile veramente del del fazzoletto al limone quando vai a mangiare il pesce al ristorante ecco l'utilità di aquilani in questa partita è quella del fazzoletto al limone al ristorante di pesce veramente è come pulirsi il culo con i coriandoli qua in veneto se dice quando quando che te fa una roba che 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 non serve un cassa disemmo che che quando fai un qualcosa che sembra una soluzione ma è troppo piccola per esserlo qua da noi altri se dice se come nettarsi il culo con i coriandoli capito cioè come pulirsi il culo con i coriandoli ecco quel quel fazzoletto lì di pesce quel fazzoletto al limone che ti danno al ristorante quando mangi pesce e cose come nettarsi il culo con i coriandoli capito forza 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 che non sono nessuno stiamo perdendo con una nazionale che vale un quarto della nostra ma abbiamo anche dei difetti forza 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 i nostri ragazzi quanto mamma mia quanto odio quando dicono quando parlano dell'italia i nostri ragazzi ma basta oh finalmente mi ha fischiato un fall ma è detto totti vai fai una cosa buona o svaldone o svaldone fai cagare fai fai cagare barzagli vai bar ma vaffanculo va aquilani forza 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 aquilani marchisio marchisio fai una cosa buona almeno tu almeno cassano derossi 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 aquilani migliori in casi no scusa che cazzo dico che aquilani derossi e marchisio i migliori in campo osvaldo attenzione osvaldo vai vai osvaldo e adesso il pari del pari sarebbe meritato e intanto sto sto distruggendo il microfono me sto rendendo conto compriamo nuovo c'è nessun problema dai ragazzi dai che li stiamo schiacciando dai mi vorreste ct della nazionale capace che prendiamo un gruppo di merda tipo non so nazionali di quarta serie e usciamo come ultimi del girone però ci divertiamo ragazzi ma che cazzo di fallo è che ha preso il pallone deficiente oh taci taci no questa bisogna almeno pareggiarla ragazzi se no è un marchio d'infamia eh ho capito tutto però comunque io vorrei zeman allenatore della nazionale maggiore mi piacerebbe so che sarebbe un qualcosa oh la madonna niente ce la dobbiamo giocare nel secondo tempo e io il primo cambio che farei è mettere giovinco giovinco al posto di di aquilani mi sa che è una cosa che va fatta perché ragazzo non è in giornata mettiamo giovinco giovinco al posto di aquilani ragazzi e poi vediamo mettiamo dei rossi lo mettiamo a fare il mediano e giovinco lo mettiamo trequartista che può darci una mano in fase di smistamento può fare il nostro ericsson diciamo anzi no sono per fare il nostro ericsson dovrebbe stare in panchino no scusate scherzavo allora via 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 no bastardo ciao milano ciao inter sono qui grande vidale io sono sono un fautore del vidalismo va bene allora vai vai caluzni marchisio marchisio vai cassano osbaldone osbaldone facci godere ballando con le niente i ragazzi di via panisperna quest'oggi devono devono ancora trovare le chiavi dei loro dei loro ragionamenti ma vaffanculo ma che fallo è questo ma che fallo è questo bastardi mi avete mi avete rovinato anche il piacere delle nazionali forza forza spaccagli le gambe spaccagli le gambe a sto bastardo che corre come un il cazzo di rinvio è oh bravo vai giovinco vai giovinco contropiedata tattica contropiede contropiede vai francescone tottismo tottismo osbaldismo ma vaffanculo sveglia bastardo che nazionale di merda nazionale di scappati di casa bastardi vi odio mi avete rovinato tutto mi avete rovinato la vita mi avete rovinato il piacere di vedere ma non è possibile adesso lo tolgo adesso lo tolgo perché questo questo ha la testa ballando con le stelle questo questo pensa di avere come allenatore ghilielmo mariotto avete capito allora metto destro dobbiamo perdere e lo facciamo in grande stile mettiamo così osvaldo mettiamo destro destro cassano e totti totti e cassano a suggerire per mattia destro che in questo gioco è una discreta punta eh attenzione attenzione destro gioca nell'inter in questo gioco si l'ho fatto rimanere all'fc internazionale milano vai vai giovincone anzi ah scusate che mi sono perso oh se perdevi anche questa veramente ti sostituivo e vai totti pudone e vai andiamo a vincere adesso gustiamoci l'azione tottismo puro bepi è rimasto fermo va bene grande azione vai franz vai che ce l'andiamo a prendere andiamo a berlino ragazzi andiamo a berlino oh si signore giovinco ha cambiato la partita ho ho allattato la tattica allatta del mio seno signori vai destro vai destro è una merda vai 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 si andiamo qua ammazzatelo si grande avete visto come se l'è come se l'è fatto fuori se fa sapete che se segna se segna giovinco schizzo male avete presente quella quella ragazza che su msn aveva fatto quella scenata io ti ho dato tutto anche quando non avevo niente sei una stronza schizzo male vi ricordate eh giovinco eh beh un bel giallo ci sta qui niente eh ah fanno i cambi va bene entra mila va bene mila e shiro guarda guarda in campo c'è una nuova frigitrice mila il suo nome è e talento ha per tre eh mamma mia giovinco giovincone un gigante ma quanto è bella l'MLS ragazzi adesso parliamoci serie ma che ma quanto è bello il campionato di MLS le maglie gli stemmi è la vera è meglio della serie A allora destro destro svegliati svegliati De Rossi adesso ti caccio fuori io se fossi un giocatore e mi dicessero in che squadra vuoi andare a giocare io direi il Seattle Sounders allora mettiamo Brighi e cambiamo anche posizione ai mediani fuori De Rossi che non mi è piaciuto dentro Brighi vediamo qua ecco adesso adesso diventa il migliore in campo quando deve andare fuori giustamente Cassano anche tu sveglia però eh Antonio sveglia eh sveglia vi ricordate quando Totti nel 2004 ha sputato a Polsen? allora occhio grande Polsen grande grande garra mi piaceva quella Juve che arrivava undicesima con Diego ve la ricordate? il Malacca Martinez squadra proletaria vai Giovinco vai Giovinco vai Giovinco vai Giovinco oh che gol che gol che gol che gol che golasso risolve la partita forse vediamo qua vediamo che golasso ha fatto Giovincone telltale scavore sperimentale Sapete che il vero viaggio di scoperta è dire che la Fiorentina più forte era quella del primo anno di Sousa e non quella dell'ultimo di Montella, secondo me. Vai Marchesione! Marchesione Principino! Che scatto che aveva fatto, mamma mia. Ti svegli Pirlo? Ho bisogno... niente. Un altro Eriksen. Beh, tacci che... Poi faccio l'ultimo cambio, facciamo... anzi lo facciamo adesso, facciamo un cambio proprio da classico allenatore conservativo che toglie... Facciamo esordire Ariaudo, vai, facciamo la cappella. Chi togliamo della BBC? Togliamo Barzagli e mettiamo... ok, via. KASSEL! Svegliati però, eh! Forza! 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 Andale! Mila! Esciro! Krzinovetsk! Niente, questi vogliono pareggiare, mi sa. Ma io non consentirò questo... questo scempio, ok? Totti! Cassano! Destro! DESTRO! Avete mai sentito una... una telecronaca di Repice quando gioca a DESTRO e fa... DESTRO! Giovincon! Che golasso, che giocatore, che qualità, che perle, che pelata. Vabbè, portiera insomma abbastanza rivedibile, però insomma. Mica male, mica male, mica male. Vediamo qua. Bravo, grazie! Vai che magari riusciamo anche a fare un bel 4-1. Rotondo. Pirlo, Ariaudo, Chiellini, Marchisio. Ah, tra l'altro volevo dirvi che ho finito il campionato master con l'Udinese. Una metà classifica tranquilla. E già settimana prossima, se riesco, vi inizio a portare la Champions League del mio PES, diciamo. Perché questa ovviamente figura come amichevole, ma io ho una stagione in corso con PES, diciamo, il mio storico. Che vado a... Ho fatto i campionati, se volete vi faccio vedere anche le classifiche finali. E manca la Champions, manca l'Europa League, quindi probabilmente su Instagram scegliamo assieme la squadra con quale volete che giochi la Champions. L'andiamo a giocare e poi andiamo avanti con l'Europa League. Vediamo se anche hanno da europei quello che sto facendo. E poi c'è tutto, se volete, anche il calciomercato. E per quel che riguarda i dati delle mie modifiche, delle mie maglie, mi si diceva che c'era la possibilità di fare un cloud. Caspita palo, c'era la possibilità di fare un cloud in cui io ve lo andavo a mettere. Vi andavo a mettere, diciamo, i dati... Delle opzioni che ho modificato, le maglie, i nomi, i giocatori creati, il calciomercato. Così che voi, se avete PES 5, o ve lo comprate, o via dicendo, poi voi vi scaricate i dati che io metto in questo cloud e avete il PES uguale identico al mio. Quindi, se volete, mi dite se si può fare, se c'è qualche nerd mi conferma che c'è questa ipotesi. Guarda Totti, e lo andiamo a fare. Caspita, questo meritava il 4.1. E se voi volete, creiamo un cloud, che uno entra, non so, mette le credenziali, quello che serve, se c'è qualche nerd che ci può aiutare confermando. Tripletta di Giovinco. Tripletta di Giovinco, ragazzi. Tripletta di Giovinco, ragazzi. Tripletta di Giovinco, ragazzi. Tre gol. Tre gol di Giovinco. Cambiato la partita. Cambiato la partita, questo ragazzo. Cambiato la partita. Guardate che roba. Bella azione. Scarta tutti. Ottimo. Dai, finita. Almeno questa l'abbiamo vinta. Ma il 4-1, imperioso, sentenziale. Abbiamo visto gli spettri all'inizio. Squadra che ha iniziato male, ma poi dai, onestamente abbiamo dominato la Polonia. La Polonia dal tutto il secondo tempo non si è mai vista, onestamente. Ok. Questo era fallo. Allora. Giovinco. Totti. C'è tempo per il 5-1? No. Sì. No. 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 Niente. Va bene. Però è angolo? Sì. Va bene. Brighi. Niente. Aspetta troppo. Giovinco va a recuperare un pallone. Mamma mia. Oh, caspita che sfighe. Va bene. Finita. Bene, ragazzi. PES ritornerà probabilmente settimana prossima con il campionato Master. Conto anche di mostrarvi Europa Universalis 4, sempre settimana questa qui. E un caro saluto. Grazie. C'è tempo senza tutti.